Dopo tre anni di un complesso ITER avviato nel 2017, 15 comuni del Consorzio Comprensoriale del Chietino si affidano a Rieco per il servizio di igiene urbana. La SPA abruzzese dei rifiuti gestirà raccolta e smaltimento nei comuni di Ari, Bucchianico, Canosa Sannita, Casa Canditella, Casa Lincontrada, Farafiglia Rumpetri, Giuliano Tiatino, Miglianico, Pretoro, Rapino, Ripa Tiatina, Rocca Montepiano, San Martino sulla Maruccina, Bacri e Vilamagna. Il nuovo gestore si è presentato alle amministrazioni locali nella sala consigliare del comune di Vacri, mentre il sindaco Pier Giuseppe Mammarella si è detto soddisfatto dell'accessione delle quote pubbliche di Consac, di cui è commissario straordinario. Potremmo riassumerla così, ce l'abbiamo fatta. Da troppo tempo eravamo in un periodo di stallo dietro proroghe per la gestione della raccolta dei rifiuti, dello smaltimento dei rifiuti, con ovvi problemi che si porta in sé in una società partecipata, pubblico, privato, con a volte interessi contrastanti. Alla fine l'assemblea dei sindaci da qualche anno ha deciso di porre fine a questa storia, per cui ha pensato di impiantare una gara a doppio oggetto, vale a dire a cedere la quota della sua partecipazione in Consac e nel contempo offrire in contrappeso anche la gestione per cinque anni dei servizi di raccolta in un bacino di utenza che prevede circa 32.000 abitanti spalmati su 15 comuni del nostro comprensorio. Questo ovviamente ha richiamato l'attenzione della nuova società che poi è stata aggiudicataria di questa gara, quindi ha comprato sia la quota pubblica in Consac, tra l'altro ultimamente ha comprato anche quella della quota privata, quindi ormai la Rieco SRL partecipa al 100% in Consac e dal canto nostro cercheremo di avere servizi migliori a prezzi più competitivi perché noi siamo portatori di interessi che devono difendere la pubblica utilità. La società privata è portatrice di interessi per l'efficientamento e l'economicità e quindi produrre reddito per se stesse da reinvestire poi in tecnologia e in formazione per la tutela dell'ambiente del nostro comprensorio. Alberto Berardocco, Presidente Rieco. Rieco gestisce il servizio di igiene urbana in 80 comuni? Sì, Rieco già gestisce in 80 comuni, sparsi su quattro regioni, molto concentrata sulla provincia di Ancona, e poi passiamo in gran parte sulla provincia di Rieti, abbiamo 42 comuni che stiamo man mano contrattualizzando sulla provincia di Rieti su un appalto ventennale, ultimamente l'anno scorso siamo partiti su Termoli, Spoltore, quindi Pedaso, Orte, diciamo in centro Italia è abbastanza attiva, quindi adesso si aggiungono i comuni del Consac e come abbiamo anticipato oggi anche quelli della Cosvega, siamo felici quindi di poter allargarci sul nostro territorio.